Ciao fiorellini, ciao fiorelline, oggi facciamo il boom bag, mi sono fatto il tè e mangiamo un po' di fette biscottate. Sono fatto il tè a frutti rossi, dopo la sigla parliamo, vi dico perché non ho fatto quello, ma ho fatto quello normale con le bustine. Via la sigla! Ecco, sono ritornata, l'ho fatta con le bustine normali perché quelle lì le ho finite. Questo è il bracciale che mi sono comprata su Shea, vedete quanto è bello? È di rame, vediamo che effetto farà col tempo se mi si scolorisce o qualche cosa. Mi sono fatto questo tè perché l'ho finito, perché quando l'ho comprato non c'era quel tè che io compro tutti i mesi, non ce l'avevano e perciò me l'ho fatta a bustine, due bustine l'ho pagata 15 euro, me sa, una cosa del genere. La prossima volta se non ce l'ha, non ce l'ha, non me lo compro il tè, non me lo compro, che ne so, invece il tè al limone, tè a frutti di bosco, sapete, è così. Ora mi sono fatta a frutti di bosco e mangiamo le fette biscottate, però non posso mangiare quelle integrali perché mi fanno male. ho mangiato i fette biscotti e i cracker, però i cracker sono due giorni e ancora mi sento un po' male sullo stomaco. Questa tazza qua l'ho presa con i punti, mi sa su risparmio casa, questa qua. E vabbè, comunque, vediamo se si spezza qua, ecco, si è spezzata e mangiamo. Sinceramente, su ma di stomaco, c'ho letta al limone, però non ce l'ho. Mamma mia. Mh, entrate la primavera? Sono belle giornate, sì, però... Chissà, io ancora porto i maioni di tana, giochetti, ma poi c'ho ancora le stelle d'inverno. Che poi io, sinceramente, ho ancora un raffreddore. Vedete queste mollettine? Forse me le ero comprate su Shea, che sono pelose. C'ho... C'ho... Come se comprate i fiocchi pelosi... Vero comprate queste qua, che c'è, stavano due bianche... Due... Vedete, ce l'ho due... Due bianche e due marroni. Però... Non le... Non le trovate più. Quei dei marroni. Non so perché... Di che fino l'hanno fatto. Vedete, lo so perché io ho una francetta lunghissima. Guardate. Come la lunghezza delle vesti che avete. Ce l'ho paghi. E... Perciò... Metti lo so. E... Poi mo c'ho il cerchietto. C'ho il cerchietto peloso. C'ho... Tre colori. Bianco, marrone. Bianco, marrone. E un altro colore. Non mi ricordo. Come si ho comprato i fiocchi invece. Per... Le gambe i capelli. Sono belli peloso. Poi ci sono tante cose. Sono scegli... Belli da prendere. È un mese. Mi sono fatta tinta. Perché siamo... A fine del mese. E... Ma questo non lo so quanto lo metto. Domani. Oggi è... 22... Oggi è 24. Lo metto. Però non mi... Si vede i capelli bianchi. Mi sa. Infatti la marocchiera mi ha detto. Non ti si vede. Puoi averli... Ogni tre mesi. Perché... Ho fatto il tutto a marzo. Ho già un mese. Un mese. Puoi aprire... Eh... Do un maggio. Perciò... Non... Un... Un mese no. No. Un mese... Un mese sì e un mese no. Beh. Però volevi vedere una fatica. Poi... Sinceramente ho detto. Potresti sapere così. Non è che fare la tinta mai. Però... Perché... Non si vede. Non si vede. Non ci sono qualche filetto così. C'ho... Bianchi. Però... Non... Lo stesso è solito si fanno quando si vede la riuscita. Che c'è parecchie. C'è tanti capelli bianchi. E allora... Ti fai... Ti ricopri. Però... Io non mi ce so vedere con i capelli bianchi. Quando mi facevo la tinta... Che non avevo capelli bianchi... Mi facevo biondo platino da sola. E... Non mi... Piacevano... Sinceramente. La ricrescita. Mi facevo un mese sì e invece no. Per coprire i capelli scuri. Perché biondo platino. Io so... So così. So per giù. Da così. Cassana questo. Questo è un cassano. E... Io sono biondo scuro. Sono un po'... Più chiara di questo qua. Però... Non... Biondo forte. Non copriva tanto. Non si vedeva. Sinceramente. Non mi farei più tinte. Non mi farei più tinte. Perché... Purtroppo... Sono... Un po' apprizzolata. E... Miocafammele per forza. Vabbè... Tanto mi faccio la tinta... Senza ossigeno. Non è che mi faccia tinte chimiche... E... 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 Tutto marzo no. Tutto aprile no. A maggio me la faccio. Poi dopo tutto maggio no. Tutto giugno no. Luglio o due ore fa. Vedo. E... Insomma... Niente. Adesso... Stiamo aspettando il mio compleanno. Perché... Fra... Qualche giorno. Fra... Aprile. Mio Pasqua aspettiamo. Perché... Pasqua è fra... Sette giorni. E... Poi vabbè. Se sarà il video che farò del... Della spesa. Che il due mese dovrebbe... Dovrei... Dovrebbero da pensione. E poi... Quei 26 giorni. Il mio compleanno. A me non è che sono tanto felice. Perché mi invecchia. Perciò... Non sono tanto felice. Che mi viene il mio compleanno. Comunque... Si è riaperta la pagina. Eccolo. Vabbè... Il compleanno... Vieni... Che possiamo fare. Niente. Il compleanno c'è. Io... Adesso vi lascio. Mi finisco il mio tè. Il tè. Il tè. Il tè. Il tè. Perchè... 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 mi guardano più persone è inutile che mettono orari che non fanno bene ditemi pure voi che orario vi sa meglio da vedere i video se vi piacciono le 5 se vi piacciono le 2 se vi piacciono le 7 alle 8 questa sera io metto tanto lo programmo e esce da solo il video va bene io adesso vi lascio buona preparazione di cena e buona cena e ciao al prossimo video un grande bacio